Ciao ragazze, questo è il video del giveaway che avevo preannunciato nel video precedente e vi mostro subito i prodotti che saranno appunto il premio per questo giveaway. Sono tutti e tre dei prodotti per il corpo. Allora, il primo è questo, che lo conoscete già, ve l'avevo già promesso tempo fa su Facebook, ed è lo scrap salino rimodelante della Pupa. È un ottimo scrap, è stato infatti nominato da Elle a rivista come uno dei 100 migliori prodotti di bellezza ed è, se non sbaglio, se ricordo bene, me l'ha detto mia sorella, contiene ingredienti naturali, quindi zero schifezze. All'interno ci sono sali naturali, oli aromatici, sale rosa di Himalaya e un ottimo scrap. Io di solito lo faccio sotto la doccia, quindi con l'acqua calda, e vi lascia immediatamente la pelle liscissima e morbidissima. Sono molto contenta infatti di darlo in premio a voi, siccome io ne ho due, quindi crepi la varizia, uno lo do a voi, e tra l'altro il maxi formato, quello da 700 grammi. E poi come premio ci saranno anche questi due prodotti che fanno parte della nuova linea per il corpo di Pupa. C'è questo doccia gel profumato, non c'è niente di più originale del peccato, che all'interno tra le fragranze ha la mela rossa candita, il bergamotto, smanto, rosa, gessumino, caramello, paciulli, muschi, insomma, ha un ottimo profumo e anche questo vedrete che renderà la pelle molto molto morbida. E poi per completare il kit di prodotti per il corpo c'è questo latte per il corpo profumato, a piedi nudi sull'erba, che tra le fragranze ha il limone, il kiwi, l'iris, il mughetto, il legno di cedro, muschio e altre fragranze che io non so leggere. Comunque, anche questo ha veramente un ottimo profumo. Sono tutti e tre degli ottimi prodotti perché rendono la pelle molto 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 morbida e profumata. Lo scrub la rende più morbida e fresca invece. Per partecipare al giveaway bisogna essere iscritti a questo canale e poi farò un'estrazione con Andon.org di tutti i commenti che troverò sotto questo video. Quindi penso di avervi detto tutto, spero che i premi vi piacciono, vi auguro buona fortuna a tutte e vi mando un grosso bacio. Ciao!